Eccoci, siamo in via Rosa Pelletier, quindi in strette adiacenze di via Zara, di via Parini, di via Carlo Bosio. Il box che andiamo a proporre in locazione è inserito in questo garage di recente costruzione che gode quindi di comoda area di manovra, di buone dimensioni all'interno e ora lo andiamo a vedere nel dettaglio. Quindi attraverso questo ampio cancello scorrevole arriviamo ai vari box. Qui subito alla mia sinistra troviamo il box in questione, vediamo subito che ha buone dimensioni come dicevamo. Bello asciutto ovviamente, rimane al piano strada, quindi ottima collocazione, lungo, profondo. E infatti può ospitare anche in fondo delle mensole, delle scaffalature. Quindi ricordiamo un box singolo in locazione in via Rosa Pelletier, quindi vicino a via Zara, via Parini, via Carlo Bosio. Molto comodo come area di manovra, come accesso e anche al suo interno spazioso, siamo circa a 15-16 metri quadri. E qui possiamo concludere la nostra visita.